Jackson Storm oggi ha infranto un altro record, stabilendo il giro più veloce di sempre. Anche in questo capitolo di Cars, torna C-Kicks. Bentornati al C-Speaks con C-Kicks. Lui diventa giornalista, cioè c'ha questo news, fa questo notiziario e logicamente continua in perterrito a ammazzare, ammazzarmi, capito? Sono il vostro conduttore e indimenticabile campione della Piston Cup, C-Kicks. Cica ciao, cica ciao, torna con tutto il suo livore, con tutta la sua rabbia di essere il numero uno. Però, sempre dopo Saetta McQueen, questo lo dico io. Ultime notizie, l'esordiente Jackson Storm ha letteralmente sverriciato Saetta McQueen. Se l'avessi battuto io McQueen non mi sarei divertito tanto, poi in effetti l'ho fatto. Essere uno dei protagonisti della saga Disney o Pixar eccetera, è mi riempia di gioia, perché rimarrà per sempre. Sarà la tua voce, stai su un personaggio che sei tu. Certo, allora chi è il misterioso debuttante Jackson Storm? E perché è così follemente veloce? Jackson Storm incarna la nuova generazione di piloti high tech. Terza vittoria per il novellino. A me piace la competizione, l'importante è partecipare, lo concepisco fino a un certo punto. L'importante è vincere e saper perdere, quello sì. C-Kicks non pensa proprio così. Oh, cosa? Cioè, gli attempati come questo qui? Vabbè, questa è un po' più precisa, però... Vabbè, era un po' frisica. Sì, era un po' un'anticchia, un pochino frisica. Facciamone un'ultima. Sink è fondamentale, il suo mestiere è tutto io. Ehi, signori, dal 14 settembre al cinema c'è Cars 3, per cui, cica ciao, cica ciao, accorrete subito. Questa è Sink, questa è Sink, questa è Sink, questa è Sink, è DAI! La maglietta.